Sono Musta, e qui a Mare lavoro al bar. Sono Luca De Gennaro, e qui a Mare conduco una serie di serate che si chiamano Ascoltiamo un Disco. Sono Irene, e qui a Mare con l'OPLOP organizziamo le attività per i bambini e le famiglie. Sono Chiara Taviani, e qui a Mare mi occupo del laboratorio Camp d'Autore nella sezione Danza e Coreografia. Sono Francesca, e qui a Mare organizzo per la mia associazione Mondodonna degli incontri, dei momenti per stare insieme. Sono Diamante, e qui a Mare tengo laboratori di scrittura e di rap dedicati alle ragazze e ai ragazzi. Non fermiamo la musica e il palco di mare. Non fermiamo i progetti di inserimento lavorativo. Non fermiamo le residenze artistiche. Non fermiamo le attività per bambini e famiglie. Non fermiamo i laboratori creativi. Non fermiamo i progetti per il territorio. Il più bel ricordo che ho di mare è l'ultima festa d'estate. È stata una serata meravigliosa. Ho fatto suonare i miei dischi e un sacco di gente ballava. C'era un'atmosfera di grande felicità che speriamo di rivivere presto. Mi piacerebbe organizzare il più grande raduno di bambini del mondo a Mare. Mi piacerebbe organizzare a Mare la festa del mio matrimonio. Mi piacerebbe organizzare a Mare un grande evento, con le donne per le donne. Mare per me è unità, inclusione, multiculturalità e entusiasmo. Non fermiamo il mare. Non fermiamo il mare. Non fermiamo il mare. Sostieni mare. Sostieni mare. Sostieni mare. Manco, manco totti io. Un luogo di produzione artiglia. Ma non sono dolce. Sono un po' sexy, eh? Ho sbagliato. Ho sbagliato.